Il Centro Comerciale La Fabbrica compie 10 anni e tra le cose più importanti che dovrà festeggiare quest'anno c'è anche il grande coinvolgimento che c'è stato dei ragazzi e delle superiori. Hanno organizzato le vostre campagne pubblicitarie e cerchiamo di fare un po' un bilancio. È una convenzione che abbiamo stipulato con l'Istituto Enaio di Chiodo già un po' di anni fa e che sta continuando a produrre risultati importanti a partire da quello che è il nostro fiore all'occhiello. Siamo stati premiati alcuni anni fa anche dall'Associazione dei Centri Commerciali Italiani proprio per l'innovatività di questo progetto. Noi abbiamo commissionato agli allievi di grafica pubblicitaria che hanno costituito all'interno della scuola un'agenzia di grafica, la realizzazione delle nostre campagne classiche. Vogliamo lanciare un contesto su Facebook per fra tutti chi segue la nostra pagina chi vuole partecipare mettendo a confronto, facendo scegliere la grafica più bella, più innovativa. Che cos'è questo progetto e soprattutto come li avvicina al mondo del lavoro? Allora, il progetto è nato cinque anni fa come prova, nel senso che ci siamo sentiti con il direttore del centro commerciale ci ha dato la possibilità di provare a realizzare una campagna pubblicitaria. La prima consegna è stata di 80 proposte. Chi ha ricevuto la proposta, quindi il direttore marketing e il direttore del centro commerciale hanno avuto materiale valido, tante proposte su cui poter scegliere e da allora abbiamo iniziato a collaborare e tutti gli anni noi abbiamo queste sei campagne che andiamo a realizzare, che i ragazzi vanno a realizzare in realtà. Serve perché i ragazzi si confrontano con il mondo del lavoro, si confrontano con la realtà e l'agenzia pubblicitaria che è nata anche questa cinque anni fa ed è il gruppo che vedete qui oggi sono praticamente l'eccellenza dei nostri ragazzi. Sono i ragazzi che hanno fatto un percorso che li ha portati a crescere in modo tale che sono una certezza, cioè se qualcuno dall'esterno viene a chiederci la realizzazione di uno qualsiasi prodotto pubblicitario, io so che su di loro posso contare, esattamente come potrei contare all'interno di un'agenzia pubblicitaria, degli art director, dei copywriter che lavorano per me. Sei molto giovane, cosa significa per te far già parte di un'agenzia pubblicitaria? Beh, far parte di un'agenzia pubblicitaria adesso è sicuramente una possibilità per entrare in contatto con il mondo del lavoro e quindi capire le problematiche e il funzionamento di un lavoro. Una volta creato un prodotto va confrontato poi con i gusti del cliente e quindi con le relative modifiche da fare. È una buona iniziativa che ci mette comunque al lavoro e ci mette alla prova. Quindi l'alternanza scuola-lavoro funziona per voi? Sì, assolutamente.